Un anno dopo siamo ancora qui, consapevoli delle potenzialità e vogliose di fare molto molto di più. Devo dire che Riva del Garda, Garda Trentino, lo conoscevo già prima, venendo dalla Val di Fiemme, però lo ho riscoperto sotto un'altra luce, perché non è un posto solo per vacanza, come pensavo all'inizio, ma ci dà tante possibilità di allenamento, dall'acqua alla montagna alla pianura. Poi con questa ora intensifichiamo un po' il tutto e ci mettiamo anche il vento. Diciamo che ero partita senza aspettative, poi durante l'estate sono cresciuta molto molto bene, i campionati italiani mi hanno dato molta fiducia, avendo vinto tra virgolette con facilità, e quindi sono andata verso una stagione invernale felice e vogliosa di dimostrare in primis a me stessa che quello che avevo fatto fino allora potevo esprimerlo anche in gara. Così è stato, ho portato in gara il salto che mi serviva, la gara di fondo so che devo migliorare, però è andata bene anche quella e è arrivato l'ottavo posto che non avrei mai immaginato. Purtroppo dopo c'è stato il piccolo infortunio che non avevo previsto, eravamo concentrati sul mondiale, sapevamo che potevamo ambire a buoni risultati, vista anche la Coppa del Mondo, però mi sono accorta che programmi è meglio non farne troppi, e quindi ho dovuto accettare anche questo, però sono convinta che non mi sento ancora una campionessa, però i campioni si vedono anche nel modo in cui riescono a rialzarsi dopo gli infortuni. Grazie